Non è bello non avere i denti. Penso che sia una delle cose più brutte che una persona. Non ti fa sentire a tuo agio, non ti senti bene senza i denti. Io oggi mi sento proprio bene. Ho detto anche a mia moglie, ah come sono felice. Sono venuto qua perché ero senza denti praticamente. Dopo un po' la gengiva tende a salire, quindi la parola tende a non tenere. Ogni volta era da ribasare, 200 euro, 200 euro, tutte le volte. A un certo punto la mia compagna mi vedeva così, diceva che non era vita. Per me anche, diceva, la mamma ha continuato a insistere di farli, però io sai all'inizio era un po' titubante, farevo un po' paura. Alla fine io ho visto il mio cugino che è venuto qua, ti l'ho detto ai sattori, e quando io si avevo i denti, ho detto, ma scusa, ma tu i denti prima non li avevi così belli? E lui mi diceva, ma io sono stato immondato, li ho appena fatti, e aveva i provvisori, ed erano già belli. Noi ci siamo trovati benissimo, ho fatto otto giorni, e già sono andata a casa con i provvisori, ed era già una vita, me l'ha cambiata la vita. Quando si sono, è un altro mondo, un altro vivere, mangiare, parlare con le persone, quando li ho messi, è come se sono miei, mi dà proprio la sensazione di, i denti miei, non mi sembrano delle protesi, non lo so, sono proprio belli, mi sento proprio bene, mi sento bene, mastico, parlo, rido tranquillamente, mi sono trovato bene nei viaggi, col personale, molto seguiti, ci seguono in tutto, ti fanno passare anche delle giornate che magari qui ti puoi annoiare, loro ti fanno, sono tutti disponibili. C'è la serietà che ho trovato qui, l'ho trovato da poche parti, la velocità, i tempi, i tempi, perché io quando ho tolto tutti i denti, in tre giorni avevo i denti, e anche i definitivi sono venuti senza problemi, c'è una serietà che c'è, la precisione, la competenza, anche la gentilezza, perché sono tutti bravi, tutti disponibili. Mi consiglierei di venire sicuro e di non rinunciare a mettere i denti, perché sono soldi spesi bene, ti cambia la vita da così a così, ma te la cambia proprio da così a così, non sto scherzando, è proprio un cambiamento di vita totale, anche fisicamente mi sento più forte, magari è una cosa psicologica, perché mi sento proprio sicuro, mi dà sicurezza, vado in giro, mi sento bene.